completata l'interquartieri di muraglia domani l'intitolazione a enrico berlinguer abbattere le liste d'attesa nella sanità la regione varapiano da 13 milioni di euro donna di 103 anni operata al femore torna a camminare dopo due giorni nell'uomo di pesaro l'ultimo saluto al presidente della caritas emilio pietrelli fanno le urne domenica si vota per le primarie del centro sinistra buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv ben ritrovati al nostro consueto spazio informativo serale di rossini news telegiornali di venerdì 5 di aprile che apriamo con i lavori pubblici a pesaro perché arrivano ad un traguardo a un punto d'arrivo quello riguardante il cantiere durato anni per quelle che riguarda la circonvallazione di muraglia che oggi è stata definitivamente completata che domani alle 11 sarà inaugurata con tanto di intitolazione alla memoria di enrico berlinguer un'opera viaria strategica che andiamo a vedere in questo servizio la notte scorsa l'ultima asfaltatura domani sabato 6 aprile l'inaugurazione alle 11 con intitolazione alla memoria di enrico berlinguer in questi primi giorni di aprile si è completata la realizzazione della circonvallazione di muraglia un'opera strategica della viabilità pesarese che di fatto completa il versante meridionale della strada interquartieri unendo in un percorso rapido strada pantano castagni con via lombroso e di fatto i quartieri di cellette santa veneranda con muraglia anche nella prospettiva della realizzazione del nuovo ospedale circonvallazione completata dal cantiere di amplia ditta di società autostrade che realizzato la strada come opera compensativa della terza corsia della 14 un'opera vissuta step di intervento con una intensificazione di lavori dall'autunno 2022 periodo in cui strada carlodi venne chiusa anche per quattro mesi consecutivi dopo una serie di stop and go di chiusura oggi si sta liberando il cantiere prima dell'inaugurazione prevista per domani 6 aprile alle 11 con il taglio del nastro del sindaco ricci e l'intitolazione enrico berlinguer alla quale parteciperà anche l'ex presidente del consiglio massimo d'alema il completamento dell'opera consentirà di alleggerire il traffico da via flaminia via fratti e trovare una nuova unione rapida anche a livello ciclabile fra la celletta e l'ospedale da muraglia poi il piano di opere compensative di società autostrade si sposterà a santa veneranda per la realizzazione della bretella poi il raddoppio dell'urbinate e la bretella che dalla monte labatese si collegherà al casello l'ultima opera sarà il casello unidirezionale di santa veneranda 13 milioni e 260 mila euro investiti per abbattere il problema delle liste d'attesa nelle visite per prestazioni sanitarie nelle marche e questo il piano operativo della regione marche per il 2024 presentato oggi dall'assessore alla sanità filippo saltamartini 13 milioni contro i nove stanziati lo scorso anno in cui gli investimenti prevederanno anche una serie di interventi mirati dal monitoraggio mensile per valutare subito i casi di criticità all'introduzione dell'overbooking per le agende dei primi accessi il finanziamento sarà ripartito fra le cinque aziende sanitarie territoriali a peso urbino andrà la fetta più consistente con quasi 3 milioni di euro e restando in ambito sanitario una donna di 103 anni operata per una frattura al femore è tornata a camminare a soli due giorni dall'intervento operazione eseguita perfettamente all'ospedale san salvatore di pesaro per quel che rappresenta il primo caso di un percorso multidisciplinare di orto geriatria a tutela del paziente anziano che prenderà avvio la prossima settimana si tratta di un approccio che permetterà di valutare le esigenze globali del paziente con l'obiettivo di offrire un'assistenza integrata e una continuità assistenziale per far tornare la paziente alle sue attività quotidiane il prima possibile dolore affetto e commozione questo pomeriggio nel duomo di pesaro per l'ultimo saluto a emilio pietrelli direttore della caritas di pesaro venuto a mancare nei giorni scorsi a 69 anni dopo un periodo di malattia cattedrale gremita in questo pomeriggio del 5 aprile per l'ultimo saluto a emilio pietrelli presidente della caritas di pesaro venuto a mancare nella notte fra il 2 e 3 aprile dopo un lungo periodo di malattia vissuto fino all'ultimo accompagnato dalla forza della fede quella fede ferma e limpida che negli ultimi istanti di vita sul letto d'ospedale di muraglia l'ho portato a ringraziare i propri cari ed affidarsi dal signore e al suo accompagnarlo nel viaggio verso il regno dei cieli parole ricordate dal vescovo sandro salvucci nell'omelia di una funzione accompagnata dalla presenza di tutti i sacerdoti della diocesi vicini alla missione di emilio quale diacono di candelara e presidente della caritas ecco emilio si è sempre fidato del signore durante tutta la sua vita sicuramente come tutti possiamo potete possiamo attestare aveva una grande umanità e una fede non sbattuta in faccia per così dire non sbandierata come una sorta di brand da mostrare a tutti come una firma da far vedere ma era il timbro che accompagnava la sua umanità l'umanità di cristo in cattedrale si era donata ogni sfaccettatura di pesaro con cui pietrelli ha saputo tessere rapporti finalizzati all'altruismo alla solidarietà al bene di una comunità che non dimenticava gli ultimi dal mondo ecclesiale a quello dell'associazionismo dal volontariato al mondo istituzionale fino a quello di impresa in cui per anni pietrelli fu ai vertici del settore autotrasporti per poi allontanarmi si avvicinandosi invece ad azioni legate alla sua missione di fede la vita di emilio è caratterizzata proprio dalla capacità di essere un grande tessitore capace di costruire reti di valorizzare il bello e il buono presente in ogni persona una pesaro che ha voluto portare una carezza di conforto al dolore della moglie nadia dei figli lucia e federico della sorella rita del fratello pier giorgio del fratello gemello gino una pesaro unita nell'omaggiare l'umanità e la testimonianza di carità di emilio pietrelli credo che ognuno può dire in che modo e sono giorni complicati al carcere di villa fastigi che convive con cronici problemi di sovraffollamento ieri un 36enne detenuto è deceduto in seguito ad un malore pochi giorni prima una detenuta è stata salvata da un tentativo di suicidio e intanto continuano gli interventi di welfare a supporto delle penitenziario l'assessore comunale luca pandolfi ha annunciato oggi come l'ambito territoriale sociale 1 stanzierà 77 mila euro di progetti di inclusione inserimento di minori e di adulti soggetti a provvedimenti dall'autorità giudiziaria un piano che prevede progetti teatrali e musicali laboratori di artigianato fino a inclusione sociale e inserimento lavorativo nel consiglio di quartiere di vismara gli assessori comunali nobili pozzi e della dora hanno illustrato il piano di interventi per ricostruire il campo sportivo devastato dall'evento alluvionale dello scorso mese di maggio uno stanziamento da 700 mila euro attraverso fondi comunali e il bando sport periferie che canalizzerà gli interventi da giugno a settembre per essere pronti prima dell'inizio dei campionati 2024 2025 verrà rifatto sia il campo da calcio a 11 che quello da calcio a 5 saranno installati pannelli fotovoltaici sulla copertura eseguiti altri interventi di efficientamento energetico come la creazione di un nuovo impianto di scarico per il recupero delle acque meteoriche ed ora passiamo alla politica mancano poco più di due mesi alle elezioni amministrative ma già questa domenica a fano c'è un primo test di chiamata alle urne quella delle elezioni primarie organizzate per scegliere il candidato di centro-sinistra che correrà per la carica di sindaco per la terza città delle marche ricordiamo che in lizza ci sono quattro assessore in carica dell'attuale giunta di massimo seri vale a dire tian lucarelli cora fattori samuele mascarin e cristian fanesi saranno aperti domenica 10 seggi di domenica 7 aprile dalle ore 8 alle 20 ai quali potranno partecipare tutti gli elettori fanesi esprimendo la propria preferenza con una croce sul nome del candidato e se non era possibile un terzo mandato per questioni demografiche a fano per quel che riguarda massimo seri il terzo mandato invece possibile per una manciata di abitanti sotto i 15 mila per quello che riguarda valle foglia a tal proposito oggi abbiamo avuto ospite nei nostri studi palmiro ucchielli che nei giorni scorsi ha espresso la volontà di ricandidarsi e in questa intervista ci illustra i suoi piani per valle foglia nel prossimo quinquennio ho dato la disponibilità a continuare un lavoro un lavoro che è durato in questi anni dove abbiamo fatto di tutto e di più le foglie a cea una sua centralità quindi la disponibilità è a fare di più e meglio di quanto abbiamo fatto in questi anni non è facile fare ancora di più e meglio perché abbiamo messo tutta la l'esperienza che io ho acquisito in questi anni nei diversi ruoli ma anche un grande lavoro di squadra abbiamo realizzato tante tante cose cito quelle più importanti la depurazione dell'asta fluviale che in altra grande operazione ecologica ambientale oppure come la firma di 11 milioni di euro col presidente della giunta regionale e gli assessori brandoni baldelli della settimana scorsa che il più grande diciamo evento ambientale ecologico di forte riduzione l'inquinamento atmosferico con una incentivazione all'uso del mezzo pubblico dell'attuale circolare destra e sinistra e di questo bus rapido diciamo talacchio di valle foglia est e pesaro poi il nuovo municipio tutti quelli che vengono lì oggi hanno tutte le risposte e hanno di fronte alla casa della salute che mi sto battendo come un leone per farla potenziare e la ciliegina nella torta due teatri il teatro giovani santi riprenderà la stagione con una decina di iniziative e è un teatro di 340 posti sant'angelo 150 posti quindi talacchio ovest e lì nascerà una struttura pari al blu arena una farmacia un parco per diciamo un'autoparco con i servizi lavaggio ufficina meccanica eccetera tutti tutte idee forti anche per il futuro che naturalmente vedremo nel nella proposta programmatica delle democratici civici per valle foglia ecco come vedete insomma ci sono idee ci sono fatti e non chiacchiere di questi dieci anni e quindi speriamo che la gente possa voler continuare questa attività che ridà valle foglia una centralità che non ha mai avuto parliamoci chiaro valle foglia c'è oggi c'è su tutte le questioni ci sono idee proposte progetti e soprattutto un rapporto con i cittadini il mio telefono 338 84 60 62 ce l'hanno tutti perché quelli che hanno bisogno del sindaco deve andare a pregare aspettare i dieci giorni per un appuntamento chiamano direttamente il sindaco il sindaco risponde poi il sindaco fa un grande lavoro di squadra abbiamo deciso sempre in giunta tutti insieme quasi sempre all'unanimità e il consiglio comunale ha avuto un ruolo centrale penso all'avanzo e chiudo che abbiamo approvato 2023 3 milioni d'avanzo 2022 3 milioni d'avanzo 2023 un milione d'avanzo e poi essendo come dicono tutti io un uomo fortunato abbiamo avuto una continuità dei fondi per la fusione cioè un milione 600 mila euro all'anno per i prossimi cinque anni quindi vale foglia ha una situazione finanziaria molto solida quindi abbiamo fatto di tutto e di più e faremo ancora di più e meglio se i cittadini lo vorranno sabato 13 aprile ripartiranno i weekend gastronomici organizzati da 41 anni da conf commercio marche nord per quello che riguarda le edizioni di primavera saranno 43 i ristoranti dell'entroterra che proporranno menu a prezzi convenzionati favorendo anche la scoperta dei borghi siamo alla 41esima edizione della manifestazione più longeva delle marche che riguarda l'enogastronomia anzi che riguarda l'enogastronomia e il turismo visto che uno degli obiettivi della nostra manifestazione è certamente quello di favorire il mondo della ristorazione ma l'altro obiettivo è quello di portare turisti nelle pieghe del territorio portarli nei piccoli centri visto che l'iniziativa riguarda come noto l'entroterra della provincia di peso urbino non la costa che sarà attenzionata da un'altra manifestazione che facciamo in estate cioè i week da mare quindi i due obiettivi ristorazione e turismo dei borghi e dei paesi sono gli obiettivi che noi ci poniamo da 41 anni e il riscontro è sempre stato molto positivo da parte dei consumatori è una manifestazione in cui ci sono dei prezzi che sono veramente politici perché sono 26 euro per menù e 29 ci sono almeno due piatti del partufo è un evento atto solo a fare la promozione a quello che è l'entroterra quelli che sono i ristoranti del del nostro territorio e soprattutto è fatto anche per far riscoprire alcune situazioni alcuni borghi e alcune località che magari uno non pensa di andare a fare un giro durante la settimana ormai è diventata e antica la nostra collaborazione con e con commercio pesero per per questa iniziativa per queste per questa e per altre iniziative e noi siamo una banca che tende molto alla valorizzazione del territorio e con queste in queste occasioni abbiamo la possibilità di valorizzare il territorio l'entroterra di cui le marche e la nostra provincia in modo particolare ricca i ristoranti sono 43 certo che l'edizione autunnale è quella più attesa perché forse più attinente alla cucina dell'entroterra legata anche alle tante manifestazioni sagre e no gastronomiche che si svolgono nell'entroterra in autunno però i numeri sono in crescita e piace anche ricordare che alcuni ristoranti che sono ubicati in comuni romagnoli che prima erano comuni marchigiani oggi sono romagnoli continuano a voler partecipare a questa iniziativa profondamente marchigiana insomma ecco come sono i weekend gastronomici ed ora lo sport è il 26enne americano Ludon Love l'ultimissima carta da giocare per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro per evitare la retrocessione in A2 dopo l'infortunio di Totè la VL ha annunciato ieri sera l'ingaggio del centro reduce dall'esperienza con i Memphis Astle ci sarà la prossima settimana non sarà ancora disponibile per il match di domenica alle 12 che vedrà la squadra di Sacchetti impegnata sul campo del banco di Sardegna Sassari situazione molto complessa anche nel calcio per la vispesero chiamata al derby di Rimini domenica alle 20 e 45 derby che vedrà il debutto di Roberto Stellone che da martedì scorso ha iniziato il suo percorso da allenatore bianco rosso dopo l'esonero di banchieri si giocherà le carte salvezza in quattro partite più eventuali due di play out pensa invece ai play off little service pesero di calcio 5 che dopo la sconfitta di mantova domenica alle 18 e 15 ospiterà al pala megabox la capolista olympus roma e concludiamo occupandoci della passione per la pesca quella che a pesero da vita al rossini fishing team siamo un gruppo di amici e molto molto stretti che vanno a pescare insieme condividono assolutamente questa questa passione tutti abbiamo patenti barchette e quindi ci divertiamo ci dilettiamo e quindi è nata questa idea anche per dare un po un qualcosa uno sprint in più alla zona del porto e a tutti diciamo gli appassionati del mare perché poi l'erosine fishing team dovrà prendere un po' tutte le forme della pesca e quindi dalla pesca sportiva non solo in mare ma anche in acqua e dolci e vogliamo portare anche ad una sensibilizzazione del diciamo del tema e trattare trattare bene gli ambienti quindi cercare di mantenere gli ambienti sani conoscere gli ambienti locali e un domani magari iniziare anche a fare didattica per i bambini quindi per aumentare la sensibilizzazione sul diciamo sul sull'argomento e magari finire anche a organizzare delle bellissime vacanze di pesca sportiva aperte a tutti anche a chi non ama pescare perché poi con la famiglia ci si lega l'associazione è nata la sera del 3 aprile del 2024 o meglio in quella sera abbiamo avuto l'ingresso dei nuovi soci e oltre alla presenza di tanti graditi ospiti per noi è stato un piacere e un onore perché ha avuto una grande partecipazione una grande affluenza e siamo molto molto fieri e molto contenti di questo per come la vedo io è stata la prova che insieme si possono fare cose grandi perché praticamente noi eravamo un gruppo di amici che erano legati dalla passione per la pesca e siamo riusciti a creare questa associazione questo ente che fa mira a fare del bene fondamentalmente perché sì noi abbiamo la passione della pesca quindi vogliamo promuovere questo questo magnifico sport ma la pesca così come il pescatore in realtà mira anche a tutelare l'ambiente e quindi l'associazione vuole proprio fare questo vuole tutelare il mare ma più in generale tutte le biodiversità perché il pescatore è un ambientalista è una persona che proprio perché basa la sua passione sul sui pesci sulla cattura dei pesci è interessato a preservare la diversità e preservare queste la presenza dei pesci nei nostri mari nei fiumi nei laghi quindi siamo molto contenti della cena che c'è stata del progetto e per il futuro faremo altre cene chiunque sarà chiunque interessato a partecipare potrà semplicemente contattarci sulla nostra pagina instagram e poi diventare un nuovo socio del rossini fishing team e con questa conoscenza del rossini fishing team si conclude il nostro telegiornale ma non si concludono gli spazi informativi su rossini tv subito dopo il tg alle 20 l'appuntamento con il magazine la natura della cultura faremo oggi un'anteprima di quello che succederà a cagli la prossima settimana quando appunto la città di cagli sarà capitale della cultura per una settimana nel progetto 50 per 50 capitali al quadrato vi ricordiamo che il magazine la natura della cultura viene va in onda in tre giornate il lunedì il mercoledì il venerdì alle 20 appunto ma anche alle 8 di mattina e alle 13 con il riassunto della settimana che verrà effettuato anche domani e domenica domani alle 12 alle 19 e domenica alle 15 e alle 21 e poi la nostra prima serata alla scoperta di king il nuovo centro nuovo mega store di abbigliamento sportivo inaugurato nei giorni scorsi vi abbiamo dato alcune anticipazioni nel tg di ieri vedremo lo speciale realizzato da teobaldo bianchini questa sera alle 21 e 20 e poi vi ricordo naturalmente l'appuntamento con l'informazione del mattino quella di buongiorno rossini rassegna stampa di quotidiani locali di domani sabato 6 aprile che dalle 7 20 in diretta sarà condotta dal nostro antonio astuti e dunque appuntamento a domani con buongiorno rossini si chiude invece qui rossini news vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi grazie a tutti